Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Torniamo a parlare dell'omicidio che è avvenuto qualche settimana fa nella zona Giotto. Il marito ottantenne che sparò alla moglie malata uccidendola. Oggi la richiesta di scarcerazione. L'uomo potrebbe anche essere destinato alla casa Pia. Vediamo. Sicuramente non è il luogo dove pensiamo che potrà stare. Appena troviamo una sede idonea faremo l'istanza perché possa uscire. Lo avevano annunciato già in più occasioni ed adesso i legali di Alessandro Sacchi, l'ottantenne che lo scorso 21 giugno aveva ucciso la moglie Serenella Mugnai di 72 anni da tempo malata di Alzheimer, hanno chiesto la scarcerazione. Le porte della casa circondariale di San Benedetto si erano aperte per l'anziano a poche ore dal delitto e era stato arrestato dopo aver confessato di aver sparato alla donna. Gli avvocati Piero Melani Graverini e Stefano Sacchi adesso avrebbero individuato nella casa Pia la struttura in cui l'ottantenne potrebbe scontare l'eventuale misura cautelare meno afflittiva, ovvero gli arresti domiciliari, misura che potrebbe essere concessa per l'età avanzata e le condizioni di fragilità dell'uomo. Adesso però è atteso il risponso del tribunale. L'omicidio risale alla notte dello scorso 21 giugno all'interno dell'appartamento di Via Legiotto nel quale la coppia viveva. Senza figli da tempo faceva i conti con la malattia degenerativa che aveva colpito la donna. Quella sera l'ottantenne aveva impugnato la pistola ereditata dal padre mai denunciata e aveva esploso un colpo fatale contro la moglie. Nell'interrogatorio di garanzia reso con gli avvocati in carcere di fronte al PM Marco Dioni, Sacchi aveva raccontato che la moglie quella notte nonostante fosse tardi non voleva andare a dormire. Lì lui avrebbe perso la pazienza. All'uomo è contestato l'omicidio volontario aggravato dal legame coniugale con la vittima. Sarebbero quattro i responsabili individuati dagli inquirenti per l'aggressione subita da un sessantenne a San Giovanni Valdarno lo scorso 6 luglio fuori da un locale. I ragazzi, alcuni anche minorenni, si erano accaniti con calci e pugni contro l'uomo e poi lo avevano lasciato per terra continuando la loro serata in discoteca. La vittima, residente proprio a San Giovanni Valdarno, era stata poi soccorsa dai mezzi del 118, trasportato con il Pegaso alle scotte di Siena, dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sono stati numerosi gli incidenti che si sono verificati nelle ultime ore nel territorio aretino. Ieri in tarda serata lo scontro tra una moto e un'automobile a Faella, nel comune di Castelfranco Pian di Scò, sulla strada provinciale 9 sul posto. Un'automedica del Valdarno, la misericordia di Castelfranco e il Pegaso. Un motociclista, 59enne, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena con l'eliambulanza. In mattinata, lungo la 71, un altro scontro tra due auto nei pressi di Castiglione Fiorentino, ferita una trentenne, trasportata in codice rosso al San Donato. Poco dopo, ancora un'auto fuoristrada in località Mezzastrada, in questo caso è rimasto ferito un 55enne sul posto, la Croce Bianca, i vigili del fuoco e la polizia municipale. In queste giornate di caldo, gli esperti dicono non chiamiamolo record perché alla fine è un caldo un po' nella norma, quantomeno per quello che riguarda i valori estivi, ma di fatto sono giornate davvero molto calde. Come sempre arrivano i consigli da parte dei medici e noi abbiamo chiesto anche di descriverci quali sono i sintomi e soprattutto le differenze tra un colpo di sole e un colpo di calore. Sentiamo. Le tipologie di persone a cui rivolgersi sono, uno ovviamente le persone anziane e lì si è attivato tutto un discorso della sud-est, della regione, nell'ambito del coordinamento tra il 118, le cotte, il territorio. Quindi noi bisogna intercettare i pazienti fragili e anziani e bisogna fare in modo tale che siano ben idratati, che abbiano un ambiente abbastanza fresco e compagnia bella. Per il resto, per le persone giovani, di questi giorni vale la stessa cosa. Non solo non uscire nelle ore, ma soprattutto mi rivolgo a chi fa un'attività sportiva durante questo periodo, se non si va alle Olimpiadi a Parigi, che tra poco penso forse sarebbe il caso di evitare. Però devo dire che siamo all'inizio, per ora noi qui, casistica di questo tipo, in questi due o tre giorni di caldo importante, non ne abbiamo ancora vista. Che sia un buon inizio che forse la popolazione ha capito, non lo so. Colpo di calore, ne abbiamo parlato anche negli anni passati, non va sottovalutato. Quali sono gli eventuali sintomi del colpo di calore al quale ci si può essere esposti, magari anche inconsapevolmente? Il colpo di calore è una patologia molto grave perché può portare anche a morte, può portare a delle sequele come crisi convulsive. Come ci si accorge? Il paziente comincia a essere soporoso, comincia a avere nausea, comincia a avere brividi se sviluppa la febbre. E quindi sono tutti sintomi molto importanti da tenere conto e davvero correre al pronto soccorso. Perché prima si interviene, è meglio, il paziente va reidratato, bisogna dargli una temperatura che riraffredda il corpo. Però, diciamo, contrariamente al colpo di sole, che è una patologia che può dare un po' di fastidio, ma insomma, il colpo di calore crea uno squilibrio anche idroelettrolitico, quindi è una patologia grave che bisogna affrontare. Sono rari i casi, però quando ci sono bisogna trattarli. Ecco, lo doveste spiegare a chi davvero non è colpo di sole, colpo di calore, la macro differenza qual è? La macro differenza è che sintomatologicamente la cosa da cui stare veramente attenti è lo stato di sopore del paziente. Perché il colpo di sole uno è rossato, ci può avere cefalea, si sente caldo, ma non c'è un disturbo del sensorio neurologico. Questa è una delle cose a cui stare più attenti. E poi l'ipertermia, una febbre veramente elevata, che non ha origine di niente di infettivo, vuol dire che lì l'equilibrio della temperatura colporea è andato in crisi e quindi bisogna trattarla. E proprio il dottor Maurizio Zanobetti è tra i consiglieri e soci fondatori della Fondazione per l'Emergenza Urgenza che è stata presentata nelle scorse settimane nella Sala Caduti di Nasseria presso il Senato della Repubblica. L'attività verterà in particolare sui temi della ricerca scientifica, di interesse sociale, la formazione professionale, i congressi, prodotti editoriali e digitali con specifico impegno nello sviluppo dell'attività clinico-assistenziale, organizzativa e gestionale nel settore proprio della medicina dell'emergenza urgenza. Una stella posta al centro di un cerchio, praticamente del diametro di circa due metri, in installazione decisamente singolare, è stata ritrovata da un escursionista durante una passeggiata lungo il Tevere, mentre attraversava un'area che solca le zone di Gragnano e Santa Fiora, questo quanto riportato proprio dal Corriere di Arezzo e da Saturno Notizie. Un'installazione che ha richiamato anche l'attenzione dei carabinieri della compagnia di Sansepolcro che una volta informati appunto di questa scoperta hanno effettuato sopralluoghi e adesso insomma stanno indagando su cosa possa significare questa singolare opera. Ancora la sanità, torniamo a parlare in questo caso di Covid che fa indubbiamente molto meno paura. Adesso a spaventare è l'influenza. Dottor Scala, in questa stanza abbiamo raccontato insomma momenti davvero difficili, complicati come la bolla Covid, come insomma quel periodo che ormai speriamo di esserci lasciati alle spalle. Ma la fotografia che si scatta oggi per i casi che comunque ancora ci sono ma anche per le tante influenze che magari non vengono neanche investigate insomma da questo punto di vista, qual è? Sicuramente la situazione, ecco riguardandoci indietro, ricordando poi le interviste fatte in questa stanza in quegli anni drammatici è completamente ribaltata pur essendo ancora segnalati avendo noi anche ricoverati di pazienti con positività per il Covid sia le modifiche delle caratteristiche del virus sia soprattutto la estensa campagna vaccinale la rendono certamente una infezione che non va sottovalutata principalmente con interessamento polmonare e con polmonite ma che va particolarmente attenzionata a quelle persone fragili. Il Covid così come può essere una polmonite da un altro agente infettivo, agenti opportunistici possono mettere in grande difficoltà respiratoria queste persone quindi a volte anche purtroppo portare al decesso e sottolineava anche il ruolo dell'influenza degli altri virus è verissimo, noi abbiamo avuto veramente questo inverno prolungato una epidemia molto aggressiva di virus influenzali, virus respiratori o sinciziali anche il Covid combinato e anche in soggetti senza comorbidità abbiamo avuto gravi quadri di polmonite, di insufficienza respiratoria e anche purtroppo qualche caso non siamo riusciti a tirarlo fuori quindi il messaggio che può venire fuori è quello dalla lezione del Covid di mantenere sempre a livello generale quindi un livello di attenzione sia a livello sanitario che a livello sociale e nelle condizioni di rischio ecco, l'uso del dispositivo nelle situazioni appunto dispositivi di protezione individuale non va mai dimenticato soprattutto se ci troviamo di fronte o ci interfacciamo o siamo persone fragili quindi a rischio di poter sviluppare complicanze gravi da infezioni Covid correlate o da altre infezioni come influenza o altri tipi di agenti patogeni Un termine sanificazione che abbiamo imparato bene durante la pandemia appunto rispetto al suo significato e adesso invece proprio nel settore degli appalti per la sanificazione dei front office c'è l'intervento dei tre sindacati CGL Cislewil Toscana che protestano per i tagli definiti inaccettabili delle aziende sanitarie e chiedono con una lettera inviata al presidente della regione Eugenio Giani e all'assessore Simone Bezzini un incontro urgente proprio alla regione vanno escluse dicono conseguenze immediate sull'occupazione parliamo di circa 5.000 posti di lavoro Siamo alla politica e ci spostiamo a Cortona dove è iniziato da pochi giorni il secondo mandato guidato da Luciano Meoni tra le riconferme c'è quella di Silvia Spensierati Silvia Spensierati è un'altra riconferma importante per la giunta cortonese del sindaco Luciano Meoni a lei restano le deleghe su cui ha operato in questi anni che vanno dalla scuola ai trasporti passando per la sanità e lo sport proprio in tema sportivo arrivano già le prime novità Sicuramente il rifacimento della pista d'atletica che abbiamo vinto questa è una notizia proprio fresca fresca ci siamo aggiudicati il bando e quindi a breve procederemo con la riqualificazione della pista d'atletica della maestra del Sasso questa è una delle cose poi chiaramente riproporremo sullo sport sport sotto le stelle nel mese di settembre e poi tutti i progetti che sono nel programma portarli avanti già da subito Serrato è il lavoro che l'amministrazione comunale cortonese dovrà fare in tema sanitario Pensavamo di insieme anche al nostro sindaco ma coinvolgendo chiaramente la conferenza dei sindaci sollecitare a parte chiaramente il miglioramento del pronto soccorso ma anche qualcosa di nuovo perché secondo noi serve la guardia medica pediatrica l'abbiamo messa nel nostro programma è uno dei punti dove lavoreremo già da subito In attesa che il progetto Medietruria trovi gambe l'attenzione è puntata oggi anche al ripristino delle stazioni ferroviarie di Camucia e Terontola Per le stazioni Terontola di Camucia abbiamo già sollecitato da anni ormai sia RFI in primis che poi Trenitalia sappiamo che sono state messe la riqualificazione di Terontola nello specifico nelle opere triennali quindi speriamo che da qui ai prossimi anni arrivi anche il momento di Terontola chiaramente noi rinizieremo a sollecitare perché come saprete non è competenza comunale ma il comune dovrà fare la sua parte nel tenere sempre alta l'attenzione quello continueremo a farlo già lo stiamo facendo ma sarà una delle nostre priorità anche quello poi sui trasporti volevo dire che sta uscendo in uscita il bando per il TPL con corse integrative su tutto il comune specialmente della navetta Camucia Cortona e per l'ospedale Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli sarà alla guida di Anci Toscana fino all'assemblea congressuale vicepresidente vicario dell'associazione sarà dunque lui a guidare e ad accompagnare l'associazione stessa fino all'assemblea elettiva congressuale fissata per il 18 settembre ricoprirà questo ruolo dopo la decadenza di Matteo Biffoni l'ex sindaco di Prato che ha concluso la sua esperienza dopo il secondo mandato siamo alla pagina della cultura iniziamo con la partenza dell'edizione 2024 di Cortona On The Move Il festival ritorna l'11 luglio a Cortona riconfermandosi come uno degli eventi più importanti e di riferimento per la fotografia nazionale e internazionale Artisti italiani ed internazionali esplorano le molteplici sfumature del corpo per promuovere una riflessione profonda sull'attualità e su un argomento cruciale nella società, nel costume e nell'arte contemporanea L'edizione 2024 di Cortona On The Move è sul corpo in tutte le sue forme e in tutte le maniere in cui la fotografia l'ha raccontato perché è uno dei temi più che appassionate la fotografia dall'origine e lo vediamo con gli archivi alinari con cui esponiamo qui una mostra particolare ricercando gli archivi fino alle cose più contemporanee come Miriam Boulos una giovane fotografa libanese che racconta il desiderio femminile attraverso il corpo quindi esploriamo tutte le sfaccettature di questo tema così caro e così importante oggi Body of Evidence è infatti il tema di quest'anno dal borgo della Valdechiana sono arrivati fotografi da tutto il mondo per Cortona On The Move Cortona On The Move è realizzata grazie a una squadra incredibile che cresce e si afferma di anno dopo anno credo fortemente nel lavoro di squadra e dietro di me e dietro il lavoro di Paolo Wutz il direttore artistico di Kublai Clan per la prima volta curatori fotografici un collettivo che è nato a Cortona si è sviluppato a Cortona e che afferma Cortona come un in qualche modo un catalizzatore culturale e anche un incubatore di professionisti del mondo della fotografia io mi sono accorto che veramente questo festival è forse il festival più internazionale che abbiamo in Italia perché quando viaggio fuori dall'Italia tutti ci parlano di questo festival che attira persone ieri sera prima che iniziasse il festival ero qui sulla piazza e artisti internazionali già erano arrivati dal Belgio dalla Bulgaria, dall'Inghilterra per unirsi a noi in questi tre giorni di celebrazioni della fotografia 22 mostre di cui 4 collettive e 18 individuali 6 location e 4 mesi di festival fino al prossimo 3 novembre questi i numeri dell'edizione 2024 quest'anno le mostre resteranno aperte fino al 3 di novembre proprio per consentire sempre a un più largo pubblico in particolare alle scuole del territorio di poter visitare le mostre che proponiamo si avvia a conclusione l'edizione 2024 del Mango Music Fest che ha decisamente riscosso un grande successo ieri sul palco appunto del Mango il nipote che si chiama Leonardo Capaccioli di Pupo in Arte Capaleo si è appunto esibito proprio ieri ha inaugurato la terza serata del Mango Music Fest al Prato di Arezzo che è come da tradizione propone il caratteristico mix di artisti emergenti e giovani talenti affiancati appunto da artisti di fama nazionale e internazionale questa sera e domani dunque le serate conclusive domani in particolare arriverà Dargen D'Amico ancora una mostra questa volta parliamo però di percorsi alchemici firmata da Rita Polverini e ospitata dal Palazzo di Fraternita cerca di unire l'Occidente e l'Oriente infatti troviamo il calice che per noi fa riferimento sia alla Sacra Coppa il calice che utilizza il sacerdote e c'è Akenaton, il faraone che dal politeismo ha portato propose il monoteismo per cui diciamo una mentalità molto all'avanguardia questa unità delle religioni perché è la divisione che divide appunto l'uomo, le culture dalle conne bizantine all'arte medievale e rinascimentale così l'artista aretina Rita Polverini si è cimentata nella ricerca di nuovi percorsi legati al simbolismo tradizionale che sono sfociati nelle opere della mostra percorsi alchemici un percorso appunto alchemico ma fa riferimento anche a un percorso interiore tradotto e trasportato su queste tavole linee diciamo che anche è un linguaggio alchemico in quanto si parla anche attraverso vengono descritte scusate anche attraverso il colore i simboli questa costellazione di simboli che richiamano a una diciamo a una interiorizzazione della persona in quanto appunto attraverso queste queste opere uno può identificarsi e scoprire la bellezza che c'è dentro ognuno di noi l'artista ha realizzato vere e proprie costellazioni di simboli arcaici scolpite in tavole di legno di tiglio di grandi dimensioni poi dipinte utilizzando colori e gomma lacca l'esposizione sarà visitabile sino al 21 luglio all'interno del Palazzo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande la scultura in basso rilievo è unica in tutta Italia su nell'alto nell'Italia diciamo esiste più un tutto tondo questa è la prima realtà e allora voglio dimostrare il 21 di luglio l'ultimo giorno propongono Open Day aperto a tutta la città per chi vuole venire a provare a scolpire qui dalle 10 e mezza alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 17 e 30 per cui invito la cittadinanza e anche chi non è cittadino il turista a venire a provare a utilizzare scalpello sgorbi e mazzuoli perché questi sono gli strumenti che utilizzo normalmente per fare queste opere una installazione decisamente singolare quella che un artista ha lasciato nelle campagne del Valdarno Aretino vediamo ci sono Blinky il fantasmino rosso Pinky quello viola Inky quello di colore azzurro ed infine Clyde tutto arancione e poi non poteva mancare Pacman protagonista assoluto nelle campagne di terra nuova a bracciolini è così sbucata questa coloratissima sorpresa ci troviamo lungo la provinciale sette ponti a pochi metri dal bivio casalino qui un misterioso artista colori alla mano ha trasformato 5 rotobelle nei protagonisti del noto videogioco giapponese un vero e proprio simbolo degli anni 80 nei quali influenzò anche musica arte e cultura semplici le regole del gioco sfuggire ai fantasmini e mangiare i semini sparsi sul labirinto l'artista ha lasciato anche una nota sulla sua opera sperando di non aver arrecato troppo danno si legge vi chiedo gentilmente di lasciare questa installazione per più tempo possibile l'opera ha già suscitato l'interesse di chi passava da quelle parti che si è fermato per scattare alcune foto ed infine siamo allo sport colpo di mercato dell'Arezzo dalla serie A Svizzera arriva Del Fabro il difensore classe 95 è cresciuto nel Cagliari con cui ha collezionato 6 presenze in serie A ad inizio carriera il suo nome era spuntato negli ultimi giorni oggi arriva appunto l'ufficialità considerato un grande talento quando era un ragazzino ha mantenuto solo in parte le promesse anche se il curriculum è di buon livello attualmente era in Superliga in Svizzera reduce da una stagione in cui ha collezionato 31 presenze l'Arezzo calcio femminile ha invece raggiunto l'accordo con la calciatrice Carlotta Nardi per il rinnovo del contratto fino a giugno 2025 sicura nelle uscite reattiva tra i pali e brava con i piedi Nardi si appresta ad iniziare la terza stagione in maglia amaranto dopo il suo arrivo a settembre 2022 dopo una prima stagione giocata da secondo portiere nella scorsa stagione Carlotta si è guadagnata la titolarità tra i pali dimostrando di essere un portiere forte e affidabile e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per la cortesi e attenzione e arrivederci a l'ultima notizia a l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia l'ultima notizia